Vince la famiglia, la manovra economica del governo cambia faccia a vantaggio dei nuclei familiari con prole. Più figli ci sono e più alte saranno le detrazioni, ma l'aiuto cala con l'aumento del reddito. Per una famiglia con reddito di 25.000 euro, con due figli di cui uno minore di tre anni, la detrazione passa da 800 a 980 euro per i figli maggiori e da 900 a 1080 per il secondo figlio. Il tutto per un vantaggio effettivo pari a 278 euro. Se i figli sono tre, il risparmio sale a 432 euro e può raggiungere i 600 euro con quattro figli. Mentre una famiglia con reddito di 20.000 euro e con un figlio maggiore di tre anni ottiene un vantaggio di 142 euro. Le famiglie con reddito di 15.000 euro invece avranno detrazioni più alte con risparmi maggiori. 152 euro in più con un figlio, 311 con due, 475 con tre. Buone notizie dunque per le famiglie, ma prima di cantare vittoria bisogna attendere l'iter definitivo del provvedimento. Atteso domani alla Camera, ma il voto finale è previsto per il 22 dicembre. Il governo comunque ha posto tre voti di fiducia.